Grazie Bravo Ugo Non so a voi Ma a me Da un senso Fa un effetto Di grandissima solidità Una cosa E' davvero Un uomo positivo Abbiamo cominciato insieme A Emilio Floris Insieme a tutti voi Non vicino perché sicuramente Mi dimenticherei qualcuno Però un saluto voglio darlo A qualcuno di me è stato vicino Per cinque anni di governo che è qui E lo ringrazio di essere qui con noi Al presidente Beppe Pisano Abbiamo cominciato a parlare Di tante cose Sono stato Intrigato Come sa dirsi Nella formazione di questo piano Ho cercato di portare Qualche suggerimento Ha ricordato Bene Ugo Che bisogna lavorare Sempre tenendo presente Le persone Che bisogna aiutare le imprese Che producono Ricchezza Benessere per tutti Che bisogna sempre Salva guardare L'ambiente L'ambiente Il paesaggio Dentro Queste direttrici Ci sono molte cose Su cui si può Innovare Io ricordo Ad esempio Che con Mauro Pini Decidemmo Di fare un contratto Con una compagnia aerea Low cost Dai prezzi Molto più bassi Da quelli Che al di là Dello scontento Che certamente C'è tra i sardi Sull'operato E sui negativi risultati Della giunta Soru C'è un altro motivo Che mi fa certo Della vittoria L'ho detto In Abruzzo Dove sono stato presente Per quattro volte Nel corso Di quella campagna elettorale Abbiamo vinto Con uno scarto Di quasi dieci punti Gli italiani Sono consapevoli Di come è riuscito A operare Il nostro governo Meno male Il consiglio c'è Viva l'Italia L'Italia che ha scelto Di credere ancora In questo sogno Presidente Siamo con te Viva l'Italia L'Italia che ha scelto Viva l'Italia L'Italia che ha scelto Viva l'Italia che ha scelto